Turismo dello sport, a volte anche quotato in borsa, oggi diventa sempre più importante anche progettarlo dal locale al nazionale. Quanto è importante che attraverso l'informazione venga avvicolata sia l'importanza che la difficoltà nella progettazione? Beh, è di una fondamentale importanza perché far capire un progetto ad una comunità non solo non è facile, ma è di fondamentale importanza la comunicazione. Cioè una squadra che nasce dal niente o che ha un obiettivo, certo questa cosa deve crescere di pari passo alla società, cioè deve crescere nell'humus del territorio perché altrimenti resta una cosa a sé stante. L'informazione è importantissima perché deve far capire gli obiettivi, deve far capire dove si vuole arrivare e anche l'importanza di avere una squadra di qualsiasi disciplina ovviamente che ha degli obiettivi anche di alto livello e che può portare ovviamente delle economie, può portare dei vantaggi al territorio.